I Rosso-Blu sono tornati ad allenarsi oggi pomeriggio sul campo della Riviera delle Palme. I tifosi sperano che la pioggia che ha accompagnato il lavoro abbia spazzato via completamente la delusione per la sconfitta interna con il Ravenna, perché ora Tinazzi e compagni devono concentrarsi al meglio per la trasferta di Monza. Si sono allenati a parte i soliti tre centrocampisti, Titone, Magnani e Forò. Morini è rimasto fermo a scopo precauzionale a causa della botta rimediata domenica contro la compagine giallorossa. In terra lombarda non andrà di certo Filippo Forò, che è stato fermato per due giornate dal giudice sportivo a causa del rosso rimediato nella gara contro i Romagnoli per il brutto fallo commesso su Curiale. Il Folletto, che è rientrato proprio domenica dopo oltre due mesi di stop, salterà anche la sfida casalinga con la Cremonese. Nessuno squalificato invece nel club Brianzolo. Ora sentiamo dalla voce del tecnico Dadderio i commenti a freddo sulla gara contro il Ravenna. Ho tre parole, lavoro, lavoro e lavoro. Questo è il mio commento a una partita e a quello che si è fatto. Perché vuol dire, e quando mi assumo le responsabilità sono queste, io ho preso questa squadra assumendomi già nel momento in cui l'ho presa le responsabilità pesanti che c'erano. Penso anche che sotto il profilo fisico siamo cresciuti, perché due mesi fa certamente non riuscivamo a tenere 90 minuti. E quindi che siamo cresciuti. Dobbiamo crescere ancora in alcune persone, perché comunque domenica due giocatori sono usciti per difficoltà e quindi li abbiamo dovuti cambiare per difficoltà e quindi di conseguenza dobbiamo fare anche certe scelte. Qualcuno non ha giocato per difficoltà e quindi certamente dobbiamo poi trovare alternative a queste soluzioni e quindi dobbiamo crescere in alcuni. Sotto il profilo tattico certamente qualcosa in più dobbiamo fare, sotto il profilo difensivo. Sotto il profilo offensivo, oltre a creare le occasioni, dobbiamo fare anche gol. Quando parlo di profilo offensivo parlo bene di chi arriva davanti alla porta e quindi che non sono solamente gli attaccanti. Perché questa squadra quando ha giocato con tre attaccanti forse ha prodotto meno di quello che ha prodotto con due.